Porpora è la storia appunto di due ragazzi, di due adolescenti che vivono un periodo importante della loro vita, cioè il cambiamento, quindi il progetto nasce su questa esigenza di raccontare il cambiamento tra la fase adolescenziale e la fase adulta e l'incontro con l'altro ovviamente. Ho scelto un tempo così breve perché mi interessava quel preciso istante, cioè non il momento prima o il momento dopo, ma il momento in cui loro si incontrano, il momento in cui loro scoprono di essere complici in questa vita, quindi quel momento lì è il momento che mi interessava, quindi il tempo narrativo per me ovviamente era giusto e poi si dilatava o appunto si accorciava in base a quello che poi accadeva a loro durante tutto il corto. Beh, siccome appunto c'è il telefonino immagino, perché fai riferimento a questa, alla scena del telefonino, fanno parte della nostra vita, quindi ci circondano, cioè sono parte di noi, ormai sono diventati un prolungamento di noi stessi, infatti lo sto vedendo con loro che mi stanno riprendendo per immagino Instagram o quel che sarà, quindi mi interessava metterlo all'interno del corto, cioè mi interessava che appunto dei ragazzi così giovani di 17 anni utilizzassero queste tecniche perché sono reali, sono realistiche e quindi non in maniera critica, non c'è una critica al mezzo, quindi al cellulare, allo smartphone, ai social, anzi ci può essere anche un arricchimento, è come se fosse in quel caso lì un bagaglio dove mettere i propri ricordi e quindi quella scena che lui girerà all'entico il cellulare è una scena appunto che rimarrà magari come ricordo di quella giornata che è porpora. No, si è scelto, ho scelto appunto di, il cinema è voyeurismo, cioè nel senso dalla telecamera, questo buco piccolino che ti spia, quello è il cinema, cioè siamo tutti dei grandi spioni in generale, quindi in questo caso mi serviva perché il protagonista è alla scoperta, è alla ricerca e quindi guardare una scena di quel tipo crea in lui un turbamento e quel turbamento lì per me è utile alla narrazione, a quello che poi succede dopo appunto, che è l'incontro con l'altro, inaspettato, che effettivamente lo lascia senza fondamenta, cioè lo lascia così. Per la colonna sonora invece mi interessava il, diciamo l'approccio diegetico, extra-diegetico, cioè quindi all'inizio senti la musica che ti sembra appunto la musica è colonna sonora, poi scopri che arriva dalle cuffie del ragazzo e poi dopo ce la ritroviamo di nuovo invece come colonna sonora per poi alla fine ritornare di nuovo nel cellulare. Quindi questo qui era un gioco che mi serviva per giustificare, diventiamola così, non giustificare però per inserire la musica all'interno del cortometraggio, che è una musica che in inglese appunto dice, una frase ti dice, tu hai già tutto quello di cui hai bisogno. Sì, volevo aggiungere che a progetti futuri stiamo lavorando un nuovo cortometraggio e un cortometraggio appunto che lavorerà sempre sulle tematiche dell'ambiguità e chissà, vedremo poi come andrà a finire, per ora siamo in fase pre-produzione. Grazie a voi.